Passiamo alle misure di lunghezza. Possiamo usare sia il righello millimetrato, ma se vogliamo misure più precise, utilizziamo invece calibri decimali o ventesimali. Ricordiamo che il calibro decimale ha una sensibilità 10 volte migliore del righello millimetrato, perché la sensibilità è un decimo di millimetro. Quello ventesimale ha una sensibilità 20 volte migliore di quello del righello millimetrato. La sensibilità è un ventesimo di millimetro. Qui per esempio abbiamo un parallelepipedo metallico, la sua altezza la misuriamo con il righello millimetrato e è di 6 centimetri, con incertezza di un millimetro. Quindi scriviamo 60 più o meno 1 millimetri. Questa è la stessa misura che abbiamo appena visto. Questa invece è la misura dello spigolo di base che è circa 25 millimetri, sempre con un errore e un'incertezza di un millimetro. Attenzione che tutti questi parallelepipedi cilindri, questi oggetti metallici solidi, hanno anche un forellino che serve per farci passare questo spago per poi tenerli, per esempio, quando si immergono nell'acqua per misurarne il volume. In questo caso il diametro del forellino è di 3 millimetri, con incertezza di 1. Qui c'è invece la misura del diametro di base di un cilindro metallico. Vediamo che è 20 millimetri. Lo stesso cilindro di prima, la sua lunghezza, la sua altezza, è di 56 millimetri. Qui vediamo anche il foro. Stesso cilindro, 56 millimetri di lunghezza. Sempre lo stesso cilindro. Questo invece è un cilindro differente, è lungo 60 millimetri. Ora la lunghezza del cilindro noi possiamo anche misurarla più precisamente con un calibro. In questo caso è un calibro ventesimale. Lo riconosciamo dal fatto che ha 20 tacchette nel nonio. Qui per esempio la misura è 56 millimetri. Poi sembra allinearsi questa tacchetta, che è la 10, 20, 30, 40. Quindi 56,40 millimetri. E allora scriviamo 56,40 più o meno 0,05 millimetri. Anche il diametro del forellino può essere misurato con il calibro, inserendo questa specie di pinzette che si allargano qui nel foro. Grazie.